Salve a tutti, un caro saluto a tutti gli iscritti al canale Challengers. Oggi celebreremo i campionati mondiali, visto che oggi si terrà proprio la semifinale tra Francia e Marocco, dei campionati mondiali del Qatar. E come presentare questa semifinale? Proprio con le monete dei vecchi mondiali, monete celebrative che hanno presentato la storia dei campionati del mondo. Partiamo con la prima moneta, è in realtà una medaglia dei campionati del mondo tenutisi in Argentina nel 1978. Su tutti e due le faccia ha la stessa rappresentazione. Ricordiamo che si tenero in Argentina e vinse proprio la nazionale albiceleste, il suo primo titolo mondiale. Passiamo quindi ai campionati del mondo tenutisi invece in Spagna, in Spagna 82, dove prevalse l'Italia. La nazionale è proprio la nazionale italiana. E questa qui invece trattasi di una moneta da 25 pesetas. Nel dritto invece è rappresentato l'effigie del re Juan Carlos. Questa del 1980, quindi a valore legale 25 pesetas. Successivamente si tennero i campionati del mondo in Messico. Nel 1986. Questa è una moneta speciale, a valore diciamo numismatico, non a valore legale, emessa dalla Repubblica Italiana nel 1986. Allora qua abbiamo, farò vedere anche poi il cofanetto, col decreto proprio del Presidente della Repubblica di emissione della moneta. Allora, cosa si può vedere? Nel lato del valore legale da 500 lire, scusate, è rappresentata la Pietra del Sol, che è una grossa monolite presente nel Museo Nazionale di Città del Messico ed è una rappresentazione astronomica, diciamo sostanzialmente, della civiltà azteca. Quindi proprio per la Repubblica Italiana ha deciso di rappresentare proprio, vedete, il simbolo proprio dei campionati del mondo, del Messico. Invece il lato, diciamo, della Repubblica ha come simbolo invece proprio lo Stato, quindi la rappresentazione fisica, geografica della nazione, dove un pallone unisce, diciamo, la nazione proprio sulle isole a contatto tra Sardegna e Sicilia. Vi faccio vedere anche l'estratto, vedete, con gli articoli del decreto del Presidente della Repubblica, dove ci sono tutti i dati, diciamo, tecnici. Eccolo qua, vedete? Decreto del Presidente della Repubblica, 19 maggio 1986, ok? Quindi ricordiamo che i mondiali, ecco, vi faccio vedere il decreto, ok? I mondiali si tennero quindi in Messico, nel 1906, con la vittoria dell'Argentina, ok? Quindi l'Argentina, già di Maradona, vinse quel famoso colpo, diciamo, gol favorito dal colpo di, dal fallo di mano, diciamo, contro l'Inghilterra, ormai è diventato Cielo Berri. Quindi, passiamo al 1990, dove i mondiali si tenero proprio in Italia, e nell'89 l'Italia emise due monete dal valore, adesso le vediamo tutte e due, le faccio vedere, eccole qua, due monete da 200 lire e 500 lire in argento. Allora, ecco l'effigie della Repubblica Italiana, quindi dell'Italia, rappresentata attraverso una figura femminile, e la coppa del mondo stilizzata, quindi un insieme dei due simboli allegorici. E qua andiamo, entriamo nel dettaglio, le vediamo una alla volta, eccola qua. Quella da 500, quindi il valore è maggiore, emessa nell'89, è, c'è una rappresentazione sempre dell'Italia, con l'indicazione mondiale di calcio 1990, dove, attraverso una stella, quindi una carta tematica, sono rappresentate le città sede dei campionati del mondo. Le ricordiamo velocissimamente, abbiamo Roma, Firenze, Bologna, Venezia, Torino, Genova, Milano, Udine, Bari, Napoli, Palermo e Cattania, con i simboli araldici delle città che hanno ospitato. Andiamo adesso a vedere invece quella da 200, dove è sempre stilizzato, sempre questa volta il globo, non più chiaramente l'Italia, sempre con un pallone, e i cinque continenti che poi avrebbero, le nazioni che avrebbero partecipato all'evento sportivo. Ricordo che i mondiali vennero vinti dalla Germania Ovest, contro proprio l'Argentina, che superò l'Italia in semifinale. Concludiamo adesso invece con una medaglia, la medaglia proprio celebrativa emessa dalla... vi faccio vedere anche... eccola qua, la medaglia celebrativa, il certificato di garanzia dell'Istituto Poligrafica e Zecca dello Stato, ok? La medaglia d'argento, dove sono rappresentate, come nella moneta da 500 lire, le città sedi delle partite, il ciao, che è il simbolo di Italia 90, un pallone stilizzato, e sull'altro lato invece andiamo a vedere proprio la Coppa del Mondo. Bene. Vi ringrazio della visita e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie.